Non dobbiamo disperdere il positivo che si è fatto e che si sta facendo attraverso il MOSE, ma dobbiamo sapere che le cose che si possono fare subito vanno fatte immediatamente. La Basilica va messa in sicurezza nell'arco di tre mesi, le risorse finanziarie ci sono, il progetto è pronto, in maniera almeno di salvare la Basilica. Bisogna accelerare il percorso per mettere in sicurezza o in parziale sicurezza l'insula di San Marco e contemporaneamente cercare di ottenere che il MOSE sia apribile in tutti i modi possibili per evitare quello che è successo oggi e nel contempo che gli esperimenti che si stanno facendo diano garanzia alla movimentazione dei natanti e d'altro lato alla capacità di tenere laguna quella che è la laguna di Venezia. Per ritornare ad essere un'attrazione per il mondo bisogna affrontare con molta determinazione anche capacità di sacrificio per gli investimenti che bisognerà fare a credere in Venezia perché sia oggi in sofferenza ma domani ancora meglio di ieri.